Addio a Beppe Bigazzi, giornalista appassionato di gastronomia, amato dal pubblico tv per la partecipazione al programma televisivo La prova del cuoco con Antonella Clerici, di cui nel 2000 divenne pure co-conduttore. Valdarnese di nascita, 86 anni, Bigazzi lottava da tempo contro una grave malattia. L'annuncio della scomparsa è stato dato dall'amico chef Paolo Tizianini del ristorante La Qualina di Terra Nuova a Bracciolini, il comune dove Bigazzi era nato il 20 gennaio 1933. Tizianini, con cui Bigazzi aveva condotto un programma su Alici TV, ha scritto su Facebook, a cerimonia avvenuta, vi comunico la perdita di un amico fraterno, un grande uomo in tutti i sensi.